Ah! Qualunque cosa succeda giuro che non c'entro niente, io... Ah! Sono un innocente spettatore! Rida, rida, rida! Pensavi di poterci dare il ben servo? Cos'hai da guardare? Fermo, coraggio, fatti sotto, ecco! Chi abbiamo qui? Mi pare che abbia detto che si chiama Innocenzo Spettatori. Innocenzo! Beh, veramente noio. Allora dimmi, dove...